Benvenuta Elena nel salotto di Romantica, il tuo cognome? Elena Martimianova Prima ti abbiamo sentito cantare la lirica e Giuseppe Verdi? Sicuramente sì Da che età canti? Guarda, da sei anni, sto cominciando con la scuola musicale, conservatore, accademia della musica di San Pietroburgo, gire del mondo Qual è il tuo sogno nel cassetto Elena? Riuscire? Riccardo Muti Riccardo Muti? Perché pure conosco, sicuramente, e allora spero che l'anno prossimo dobbiamo lavorare insieme Allora spero che ti ricorderai di me perché io porto fortuna Sicuramente, sicuramente, vi auguro di buona serata e tante buonissime cose Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti